Ciao a tutte, ben ritrovate, oggi uno spacchettamento un po' diverso, anche se c'è scritto eccolo qua, non è che ero impazzita, anche se c'è scritto l'Anamania, questa è un'apertura a pacchi di chi brand quindi questa non è una recensione filati di l'Anamania, a parte che io recensioni non ne faccio io vi faccio semplicemente vedere i filati che mi arrivano e vi dico cosa vorrei farci io recensioni non ne faccio, condivido semplicemente questa volta voglio condividere con voi quello che mi è arrivato, quello che ho acquistato da chi brand che trovate sempre su facebook, ha proprio la pagina, quindi chi brand mania oppure anche il sito sempre chi brand, poi nella descrizione vi lascio i vari link queste sono proprio delle cosine che ho preso io ma ha tante 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 altre cose poi man mano vi farò vedere, già ho fatto un video con quello che mi era arrivato man mano vi faccio vedere e chiacchieriamo un pochettino, è un modo per condividere niente di particolare per farvi conoscere anche chi brand, visto che chi mi conosce su facebook e vede che sono sempre lì a dire mio 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 mio, almeno vedete che cosa ho preso questa è fantastica, questa è una spazzola, allora quanto ho capito questa è una spazzola che viene ricaricata e poi ti aiuta a pulire, questa ve la farò vedere e la farò vedere anche a Terry quando la metto in funzione, domani che sono a casa l'accendo e provo io spero che lei sia talmente brava che mi pulisce tutta casa senza che io faccio fatica l'ho presa per questo, con quest'idea, non si sa mai, magari funziona benissimo così magari invece mi da solo una mano visto che ho male alla spalla non devo fare fatica io ma domani su facebook vi farò vedere che la proviamo insieme, vedete è una spazzolina per pulire, domani la proviamo, ovviamente non la farò vedere su youtube ma ve la farò vedere poi su chi mi segue nel gruppo insieme tra chiacchiere e gomito e la farò vedere su facebook perché su youtube non è il caso, poi andiamo avanti, questi sono bellissimi una serie di pennelli per i trucchi, sono tantissimi, 2, 4, 6, 8, 10, mi sembra che sono una ventina una ventina di pennelli di tutte le misure e ragazze i prezzi di Terry e quindi di Key Brand sono veramente veramente ottimi e i prodotti sono veramente veramente ottimi quindi se avete un po' di tempo o guardate sul suo sito o seguito una diretta di Terry su facebook che sono veramente piacevoli e vedrete senza che ve lo dico io vedrete i prezzi concorrenziali che ha per tutti questi accessori che insomma fanno parte di tutte noi donne poi alla fine quindi oltre ai pennelli questa gliel'avevo chiesta, questa la puntavo perché mi serviva la piastra da viaggio per i capelli, guardate poi io l'ho presa rosa ovviamente perché sono parecchio monotematica ma questa è la piastra da viaggio piccolina che poi mi porterò in vacanza ma io la volevo così piccolina perché ho i capelli corti, mi serve la mattina per dare una piastrata al ciuffo non dover accendere il font tutte le mattine alle 6 e mezza che poi sicuramente do fastidio a qualcuno invece così accendo la mia piastrina piccolina, mi sistemo i miei capelli e me ne vado e anche questo veramente un prezzo, qua c'è anche il prezzo, non so se si può far vedere su facebook e su youtube è scappato e quindi chi l'ha visto sa che il prezzo è veramente ottimo poi andiamo avanti, questo uno si è aperto, aspettate che lo chiudiamo che l'ho aperto io con la mia delicatezza questi ne avevo già preso uno la volta scorsa sono eyeliner adesso io li lascio attaccati perché questi li ho presi per conservarli ve ne apro uno e ve lo faccio vedere ha la punta a pennarello però è morbidissima e ha un tratto bellissimo nel senso che io non sono bravissima a mettermi eyeliner, mi piace mettermelo ma non sono brava mi servono eyeliner che sappia fare le cose da solo a parte che ha lo specchietto da poter usare ed è carinissimo l'estetica è bella ma non sbava quindi è molto bello e io ne avevo già preso uno, l'ho usato e ne ho ordinati altri due proprio perché ha un bel tratto anche se tremi non ti sbava ha una bella linea e non va a rovinarti non va a sporcare poi ho preso un profumo, questo me lo ricordo un profumo da borsetta questo l'ho preso per me e poi ho preso questi due rossetti che ragazze anche di queste ne avevo preso uno la volta scorsa bellissimo perché ho preso questo rossetto e non sapevo che cosa avevo preso nel senso che avevo scelto il colore ma non avevo guardato dopodiché ho provato il rossetto a casa a parte che il colore era un fucsia bellissimo ma poi l'ho messo la mattina ho mangiato a mezzogiorno, sono uscita perché ero fuori ero il sabato, sono uscita la mattina alle otto e mezza sono stata fuori, ho mangiato fuori sono tornata, sono stata ancora in giro sono tornata a casa alle quattro e mezza avevo ancora il rossetto perfettamente al suo posto ma perfettamente al suo posto e quindi ho detto questo è quello giusto poi sono andata a leggere da qualche parte e c'è scritto permanente quindi ecco perché è un indelebile è uno di quelli che dura tantissimo e oltretutto rimpolpa le labbra quindi io mi guardavo queste labbra e dico madonna com'è bello questo rossetto madonna com'è bello questo rossetto in realtà il rossetto aveva fatto un miracolo era veramente bello siccome ho preso quello fucs e non lo posso mettere tutti i giorni perché a lavorare non posso metterlo ne ho presi due di due colori più tenui in modo da poterli utilizzare anche in settimana quando vado al lavoro io quando vado al lavoro mi metto il rossetto la mattina quando esco ma mi serve un rossetto che duri perché non è che posso andarmelo a sistemare e cose del genere quindi deve rimanere abbastanza fisso però non posso metterlo appariscente anche se vorrei perché onestamente io andrei di rossetto fucsia tutti i giorni e quindi li ho presi di due tonalità una sul rosa e una sul marroncino in modo da poterli sfruttare anche durante la settimana e questi sono una bomba vi assicuro provateli sono una bomba passiamo alla prossima confezione questo è uno shampoo se non sbaglio bello è uno shampoo questo lo apriamo insieme bello tuo shampoo bello eh e questo è uno shampoo la marca è conosciuta io la conoscevo è uno shampoo equilibrante antiforfora per capelli grassi ed è 800 ml quindi qua c'è la scorta per un bel po' e questi shampoo sono veramente buoni conosco i prezzi che ci sono fuori vi posso assicurare che a questo prezzo da un'altra parte non si trova andiamo con l'ultimo spacchettamento se riesco a tirarlo fuori dalla scatola perché imballano talmente bene che arriva tutto perfetto ma è un'impresa aprire i pacchi allora partiamo con il primo questo qua è uno doccia shampoo che ho preso per Enea quindi era carino ha un bel disegnino e così ho preso ho preso qualcosa anche per lui questo è proprio un regalino per lui come è che si chiama questo è sempre un altro doccia shampoo che ho preso sempre per Enea perché sono carini sono bellini infatti così e quindi così quando si fa la doccia quando si fa lo shampoo ha i suoi i suoi pupazzetti e poi per finire per tutta la famiglia ho preso un sapone mani questo è al mughetto e manioli è bello perché poi la confezione è riutilizzabile ed è molto molto carina quindi è anche estetica oltre c'è dentro lo shampoo e quindi si può si può usare ma una volta finito si riempie e si ha comunque sempre una confezione carina sul nostro lavandino ragazze ho cercato di essere il più breve possibile di farvi vedere un po' tutto di quello che avevo già provato e che ho riacquistato ve lo ve lo ve lo ve lo fatto vedere e ve lo straconsiglio ma veramente ve lo straconsiglio stessa cosa per lo shampoo ma veramente per tutti i prodotti key brand perché io quello che ho comprato veramente mi ha sempre soddisfatto e continuerò ad acquistare da lei e poi Terry guardatela in una diretta è veramente carina che non c'è neanche bisogno di pubblicizzarla ragazze vado a sistemare tutte le mie cose vi saluto e ci vediamo alla prossima